Dov'andiamo oggi? Mettite il cappello, ti ha. Ciao Matteo! Dov'è il mio cappello? No, è troppo grande. Troppo grande, troppo grande, ha detto. La città di Babbo Natale. Vediamo a Babbo Natale che si riprende mamma. Perché? Che mica mamma l'ha portata a Babbo Natale? Ma che dice Babbo Natale? Niente! Niente? Ma che te ti sei messo? Anche gli occhiali? Fammi vedere come te li metti. Mettite un po' gli occhiali. No, mettiteli. Mettiteli all'occhio. Sì, no, è una chiesa se non è pronti e protestanti. Così! Chissà, quelle cose strane. Così? Non so. Così? Quindi è meglio non dirla. Meglio non dirla. Meglio non dirla. Così. Quando ho un video, sì, devi andare dritto. Stai facendo il video a Vejano. Boh, quando siamo a Vejano, non lo so. Guarda, la casa dei Napoleoni questa. Le cimici, riprendi le cimici. Stiamo arrivando, mamma. Dai. Stiamo arrivando. Sì, guarda che macchine stanno nell'altilacqua. Va bene. Ma sei piccolo. Ce la fai? Sali, su. Più su. Forza. Così? Ce la fai? Esce, te stai a tondolare? Dai, tira su le gambe e tira su. Su le gambe. Le gambe devi tirare su. No, mi spingi. No, non ci andiamo. Devo portare sotto. Dove pingi? Pingi, a bagnere. Piano, eh? Pingi. No, non ci sale. No, non ci sale così. No, no, no così. No, si sale, scendi. Scendi. No, sali. Ma qui no, non ci sale così, eh? Così, qua. Così, qua. Gli vuole, così. Uh, 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 uh. Sassi, fammi vedere. Fammi vedere Sassi. Fammi vedere. Da papà. Matteo, da papà, Sassu. Bambino. Daniele. Ciao. Matteo. Ciao, Matteo. Ciao. Matteo. Dai, scendi da là. Due. 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 Due, due, due. Due. Dove devi scappare? Due. 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 Due, 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 due Findolo. Findolo. Vai scende. Bella. Tocca la sfinta. Grazie a tutti. 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 Matteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.